Nel Parlamento europeo si confrontano due schieramenti. Il gruppo di cui sarà parte determinante Forza Italia, quello dei popolari, che vuole un'Europa della libera iniziativa e del libero mercato, e la sinistra, che vuole un'Europa statalista, burocratica, invadente. Se potrò guidare una forte squadra di deputati azzurri, Forza Italia sarà in grado non solo di difendere con successo i tuoi interessi, ma anche di costruire un'Europa delle libertà economiche e della solidarietà, con meno tasse, con meno divieti, per far crescere l'economia, per mantenere i posti di lavoro esistenti, per crearne di nuovi. Per contare di più, in Europa non devi disperdere il tuo voto. Per un'Italia è un'Europa con meno tasse, con più lavoro devi farti rappresentare nel Parlamento europeo da una forte squadra di Forza Italia.